Ciao, benvenuti dal Barbecue Paradise. Cominciamo con le recensioni prodotto. Come potete vedere dal nostro sfondo, il primo prodotto che censiremo è il nuovissimo Ascona. È un prototipo perché proprio in questi giorni stanno arrivando nei negozi, ma noi ce l'avevamo già da un paio di mesi. Adesso ve lo faccio vedere. Innanzitutto vi faccio vedere la gamma degli Ascona, quella storica, il modello storico, il nero col carrello grigio. Poi c'è il grigio col carrello nero ed è arrivato il nuovissimo che affianca gli altri due modelli, All Black. Come potete vedere è tutto, 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 tutto nero. Allora, la differenza fra questa Ascona e i modelli precedenti consiste, oltre che al colore, nella neo arrivata griglia in acciaio inox. E' soggettivo il fatto che vi piaccia o meno l'acciaio inox. Le altre, infatti, continuano ad averle in acciaio smaltato. Andiamo più in profondità nella presentazione della Ascona e del suo esclusivo sistema. Eccolo qua, il funnel system. Il funnel system, come vedete, è un sistema composto, almeno nella Ascona, da un pentolino sotto, che ve lo faccio vedere, che raccoglie grassi. Un bruciatore che è tarato sui 100-110 gradi per il low and slow, un bruciatore più grande che porta la temperatura dei 150 ai 380 gradi, e poi le due componenti del funnel e dell'imbuto. Con la griglia, come vedete, il calore fa questo tipo di giro, andando a cuocere per convezione il cibo dal di sopra. In questo caso non si ragiona su cottura diretta e cottura indiretta, come fanno altri brand. Qua si ragiona in temperature di esercizio, cioè low and slow, roasting e grilling. E lo si vede anche dalle tre posizioni del manettino. Vedete? Questo è il manettino per fare il low and slow. E questo invece parte appunto dai 180 gradi per portarlo alla temperatura massima. Cosa vuol dire? Vuol dire che al di là del tipo di cottura che dovete fare e della temperatura, questo sistema comunque ti garantisce una cottura equilibrata ed omogenea su tutti i tipi di preparazione. perché andiamo a mettere anche dei tagli da grilling, che normalmente vengono fatti in grilling, gli spiedini, i pesci, tagli che ricevono un'altra temperatura. Non c'è bisogno che il calore arrivi di qui, poi bisogna girare il cibo e farlo cuocere. Ma è questo tipo di cottura completa che fa sì che il calore avvolga il cibo e si abbia sempre, sempre, anche ad altissime temperature, una grigliata perfetta. E cioè fuori il cibo presenterà quella crosticina che è la reazione di Maillard che ci piace tantissimo. E questo calore che circonda il cibo fa sì che di spingerne i succhi al centro. In maniera tale appunto da avere sempre una crosticina fuori e un cibo molto sugoso al centro. E questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio, come potete vedere, è che comunque tutti i grassi del cibo sulla griglia vanno a finire nell'imbuto per poi finire nel pentolino. Voi, chi non ha mai avuto un barbecue a gas, non avete idea di quanto tempo ci voglia per pulire una griglia di quelle rettangolari a gas. Cioè, bisogna togliere la griglia, togliere eventualmente il sistema di deflezione del calore sopra i bruciatori, sfilare la vasca di raccolta grassi e il grasso si è andato a insidiare in tutti i buchi, quindi ci vuole una mezz'ora, 40 minuti per pulire. Qua si può, ad alta temperatura, mettendolo al massimo, col coperchio chiuso, fa la pirolisi dei grassi presenti sulla griglia che va semplicemente spazzolata, eventualmente si spazzola l'inguto, e poi si raccolgono i grassi che vanno a finire tutti qua sotto e si vanno a rovesciare in un contenitore per grassi. Quindi, 5 minuti per pulirlo, 5 minuti per averlo a massima temperatura e ultimo dei grandi vantaggi di questo sistema è che il barbecue consuma esattamente un terzo di un normale barbecue. Quindi è più potente, è più pulito e consuma di meno. Ma arriviamo ancora a un altro aspetto, la versatilità di queste macchine. Adesso sto andando a fare un'operazione, che poi in seguito vi farò vedere. Allora, questo è il funnel visto dall'alto senza la griglia. L'imbuto può essere preso e girato. In questa maniera spara i suoi 10 kilowatt di potenza su questa superficie. Come vedete, ha tre linguette che servono per sostenere i suoi accessori. Le padelle, le pietre, i wok, la plancia in inox, o eventuali aftermarket, come delle padelle di ghisa. La caratteristica appunto che va a sparare un'enorme potenza, che è ben diverso da avere quel fornellino laterale dei barbecue, che sostanzialmente è stato progettato per scaldare un po' di salsine, ma sono dei fornellini molto leggeri di latta, ben lontani dalla potenza magari di un fornello della cucina. E qua invece siamo ben superiore al fornino, perché immaginate che un fornellino laterale di un barbecue sono due kilowatt e mezzo di potenza al massimo, e qua invece spariamo 10 kilowatt di potenza qua sopra. Con questo barbecue sul balcone possiamo friggere, possiamo far bollire l'acqua, possiamo fare delle cotture in un dacciolo. Detto questo, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao da Barbecue Paradise.